La politica del buon governo che sappia dare risposte ai problemi reali dell'Italia risollevando le sorti di un paese abbandonato a se stesso negli ultimi anni. Il leader di direzione Italia Raffaele Fitto traccia le direttrici lungo le quali si muoveranno idee e programmi del suo partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Lo fa durante un incontro organizzato a Barletta, città dove è forte e radicato il gruppo dei suoi sostenitori. Il centrodestra ha la grande occasione di tornare a governare il paese, dice Fitto, ma per farlo dovrà presentarsi con una proposta programmatica unitaria. Noi lavoriamo all'interno del centrodestra per mettere insieme un progetto politico, non certamente per cercare di mettere in campo una sommatoria di classi dirigenti alla ricerca di qualche seggio. Se questo è il progetto a noi non interessa. Se invece il progetto è quello di dare un profilo popolare liberale vero, serio, con dei temi chiari, con un programma preciso, che contribuisca con la coerenza che ci ha caratterizzato in questi anni ad una prospettiva del centrodestra, noi ci siamo. Nella provincia BAT si tornerà al voto a Barletta, Biceglie e Margherita di Savoia per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Nessuno schema precostituito guiderà le nostre alleanze a vertefitto, concetto ribadito nel suo intervento anche dal consigliere comunale barlettano Gennaro Cefola, quando indica convergenze programmatiche che per il bene della città possono anche andare oltre le diversità ideologiche. Noi stiamo lavorando qui nella BAT come nel resto della regione del paese, abbiamo una presenza capillare organizzata in tutte le città della BAT e quindi sicuramente daremo il nostro contributo e ci confronteremo con gli alleati. Anche qui la Stella Polare è il programma, da una parte anche le scelte di persone che possano rendere chiara una prospettiva politica sulla quale giocare la partita vincente. Non uno ma mille schiaffi simbolici, ribadisce Fitto, sono giunti al governatore emiliano con la manifestazione che ieri ha visto un migliaio di medici in corteo protestare contro le politiche sanitarie della regione. La giornata dello schiaffo, come il nostro gruppo regionale ha chiamato e come da reazioni stizzite abbiamo assistito da parte del Partito Democratico e ci hanno imputato, penso che si sia confermata come tale. Noi avevamo chiesto ironicamente una sveglia alla regione e mi sembra che questa ironia da parte nostra abbia prodotto poi, così come si è visto, una partecipazione numerosa dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Qui non si tratta di protestare contro qualcuno, si tratta di proporre. Dire che oggi la sanità in Puglia è completamente ferma allo sbando è dire una verità. L'abbandono di Direzione Italia da parte di due ex fedelissimi come gli onorevoli Nuccio Altieri e Roberto Marti, ufficialmente passati con la Lega di Salvini, non scoraggia Raffaele Fitto, che è a caccia di poltrone e dice può benissimo andare via. Noi abbiamo scelto un percorso chiaro, lineare, coerente, l'abbiamo fatto da due anni, che chi ha condiviso tutto dal primo minuto senza mai dissentire in nessun modo, dalla mattina alla sera e salti in un altro partito, è evidente che non c'è nulla di politico, c'è solo un interesse personale a provare di inseguire disperatamente una poltrona. una organizzazione capitale del nostro movimento politico.